Un numero anche importante, un numero insomma, il tuo numero? Allora, e visto Carlo Franco, visto che siete degli eterni ragazzoni, e come ha ricordato Pocanzi, tu stai qui così ti guardi, Gianni Lanfranco, continuate a giocare, continuate a vincere, perché poco fa a Nizza avete conquistato il titolo europeo Over 55, eccola qua la formazione che tiene alto l'onore ancora della nostra, a lavoro, siamo aperti!